In compagnia di Cesare Scaratti, bomber della formazione del Merano, 22 gol l'anno scorso, ma in questa intervista non ti chiediamo alcunché di sportivo o meglio di qualcosa legato sia allo sport ma alla comunicazione. Merano che ha presentato oggi il suo nuovo sito, che ha tanto di sezione video con una channel YouTube, insomma vi state ampliando anche a livello di comunicazione? Sicuramente è una cosa positiva per il Merano avere tutta questa visibilità, abbiamo visto che in queste settimane questi video che sono stati pubblicati sul nostro channel hanno avuto anche più di 500-600 visualizzazioni e sicuramente per noi è bello anche che la gente veda le nostre partite, ovvio se poi corrispondessero i risultati un po' migliori sarebbe meglio, ma sono sicuro che anche quelli arriveranno col tempo. Ascoltaci, c'è anche una sezione dedicata alle videoclip con le azioni migliori e evidentemente insomma le soggettive anche sui singoli giocatori, bisogna segnare per meritarsi? Sì, era meglio se iniziare l'anno scorso questo channel? No, fino adesso abbiamo segnato poco, pochissimo, però sono sicuro che lavorando riusciremo anche ad incrementare i gol e sperando che qualche immagine sui miei gol ci sia e che contribuisca ad ottenere questa salvezza prima possibile.